Gimmi Alegrini, capitano dell'Odace Cerignola, sicuramente un momento positivo per voi, tre vittorie di fila, naturalmente grande gioia per come è maturata l'ultima vittoria, mi riferisco a quella di Sorrento. Sì, un momento positivo per noi, dobbiamo continuare con questa mentalità, con questo atteggiamento che ci sta portando comunque dei risultati ottimi. Domenica ne è stata la prova che comunque l'Odace c'è, c'è il gruppo e sta andando alla grande, quindi penso che dobbiamo sfruttare questo momento. Quali sono i buoni segnali emersi dalla trasferta di Sorrento, anche perché si tratta della prima rimonta con vittoria dell'Odace Cerignola? Il segnale più importante secondo me è stato il fatto che la squadra ha un grande gruppo, siamo coesi e lo possiamo dedurre dal fatto che comunque chi è entrato dalla panchina ha cambiato la partita, vedi lo Iodice, l'Attanzio, che sono stati secondo me i due giocatori che hanno cambiato le sorti della partita, quindi la cosa più importante in questo momento è proprio questo. Vi siete portati a meno uno dalla vetta e questo è un fatto importante, c'è grande entusiasmo in città, c'è grande entusiasmo per quella che è una società che non ha mai nascosto insomma quello che è il proprio obiettivo e voi lo sapete da inizio stagione. Certo sì, noi sapevamo dal primo giorno il nostro obiettivo qual'era, sappiamo che siamo venuti qui perché vogliamo regalare una grossa gioia al Presidente e ai tifosi, perciò noi ce la stiamo mettendo tutta. Adesso forse siamo arrivati in un momento cruciale della stagione, abbiamo due partite importantissime, ma dobbiamo pensare a domenica e approfittare appunto di questo nostro buonissimo momento e fare tesoro di tutto quello che è stato il girone di andata ed è quello su che abbiamo lavorato fino ad ora e sicuramente cercheremo di non commettere più errori. Il Bitonto è squadra importante di questo girone HD Serie D, come va affrontato questo match? Sicuramente ci sarà tanto pubblico a seguirvi, si prevede il tutto esaurito al Monterisi. È una partita difficilissima, ma ormai tutte le partite sono come delle finali, al di là del valore del Bitonto che è indiscutibile, ha giocatori importanti, è una squadra importante, però adesso ogni partita è una finale, perciò noi dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e soprattutto per portare a casa i tre punti che non possiamo più sbagliare. Poi all'andata è stata una nostra pecca il fatto di non aver vinto uno sconto diretto o meglio con le squadre di alta classifica, quindi cercheremo di ottenere i tre punti per sfatare proprio questo tabù.